E buonasera a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. In questo video qua sono nell'app del fantacalcio per fare il resoconto dell'undicesima giornata di Serie A Team nel mio fantacalcio, precisamente per noi settima giornata di fantacalcio. Parto con il ricordarvi di seguirmi, lasciare un like, condividere il video con tutti i vostri amici e andarmi a seguire su tutti i miei altri social. Grazie mille a chi lo farà. Parto con il dire che sono stato obbligato a fare questo modulo, il 4-3-3 per via degli infortuni. Noi perdiamoci ultimamente in chiacchiere e partiamo. Provedel, 6 con gli imbatti da portiere, passa a 7,5, fondamentale per questa Lazio e per i fantallenatori. Calullus, 6,5. Chiem, 7. Due pilastri, uno per il Napoli e l'altro per il Milan. Ibanez, deludente, 5,5. Viene ammonito, quindi 5. Faraoni, 6. Viene ammonito, 5,5. Charles De Gattelere, Copp Miners, entrambi 5,5. Charles è da un po' che chiede rude, mentre Copp Miners comunque ha fatto ottime partite, quindi una partita no ci può stare. Zieliški, 6,5. Anche lui pilastro per questo Napoli. Attacco. Kwame, 7. Fa assist, 8,5. Pupillo. Zeko, 7. Non porta bonus, ma comunque fondamentale per questa Inter. Sostituto perfetto per questo Lukaku, che non si sa se tornerà la prossima giornata. Voi ditemi la vostra. Muriel, 5. Viene espulso, 4. Deludente. Questa giornata l'ho persa 2 a 1. Ora diciamo sono terzo a pari merito con un altro. Vi chiedo appunto un consiglio sulla formazione da fare per la prossima giornata. E scrivetemi nei commenti appunto come è andato a voi questo fantacalcio. Questi punti sono i giocatori che ho. In centrocampo ho 4 dei 7 infortunati e che ho Ilic, Lazovic, Paredes e Pogba infortunati. Quindi consigliatemi se fare centrocampo a 3 o ad esempio a 2. Immobile pure infortunato. Lukaku, dubbio. Non so se metterlo titolare per la prossima giornata. Questi sono i giocatori che ho messo appunto a titolare ora. Ho Muriel e Spulso. Quindi ho 1 espulso e 5 infortunati, tra cui 2 attaccanti e 4 centrocampisti. Datemi un consiglio. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo in un prossimo video. Bella!